Occorre un'apertura nuova, un nuovo strancio nella società, occorre un colpo di reni nel mezzogiorno stesso per sollevare il mezzogiorno da una spirale di attestamento emozionale. Sulla base dei risultati elettorali, di cui non si può non prendere atto, piacciono oppure no, non c'è partito o coalizione omogenea o presunta tale che abbia chiesto voti per governare e ne abbia avuti a sufficienza per poterlo fare con le sue forze. Qualunque prospettiva si sia presentata agli elettori o qualunque fatto, se si preferisce questa espressione, si sia stretto con i propri elettori, non si possono non fare i conti con i risultati complessivi delle elezioni. Essi indicano tastativamente la necessità di intese tra forze diverse per far nascere e per far vivere un governo oggi in Italia, non trascurando su un altro piano le esigenze di intese più ampie, e cioè anche tra maggioranza e opposizione, per dare soluzioni condivise a problemi di comune responsabilità istituzionale.